Auschwitz, ma mi sembra di capire dalla storia recente che l'umanità e i popoli non hanno capito abbastanza da quella lezione. Qui c'era un insediamento molto antico di ebrei che abitavano questa zona e questa porta è dedicata a Benabran Donnolo, che era un medico, una persona di cultura di quell'epoca. Era molto attivo questo quartiere, poi nel tempo evidentemente è venuto meno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.